ci troviamo nel castello medievale di casteldoria come vedete questa è un'antica fortificazione del XII secolo appartenente appunto alla famiglia dei Doria una fortezza costruita per controllare il territorio e la zona di questa bellissima vallata e di questo territorio chiamato Anglona ecco ci troviamo all'interno della torre principale quella che oggi è rimasta dell'antico castello come vedete questo era il punto di osservazione più grande qua c'è una scala molto robusta in legno abbastanza ripida che porta fino al primo piano della torre che adesso andremo a visitare ecco ci troviamo nel primo piano della della torre del castello di casteldoria appunto e qua è ben piazza d'armi come vedete il tetto è completamente in legno legno molto robusto qui è visibile un punto un punto di osservazione qui da questa parte c'è un'altra finestra ci troviamo nel punto di osservazione estremo di casteldoria esattamente sopra la piazza d'armi del castello dei doria dove è ampissima la visuale su tutto il territorio dell'anglona e anche oltre come vedete quella alle mie spalle è la pallata nella zona di castel sardo il capito è finito il aperto dell'anglona e la visione di castelli e anche i spiecianti a notizioni l'anglona le diverse l'anglona e la visione di castelli a a non il il